Mattei, Petrolio e Fango è il titolo di uno spettacolo già più volte andato in scena con protagonista Giorgio Felicetti che sabato primo giugno a partire dalle ore 21.15 debutta al Teatro Comunale di Caldarola. Qui con noi quest'oggi per parlare meglio di questo appuntamento davvero importante c'è Giorgio Roselli che appunto si è occupato insieme a Giorgio Felicetti dell'organizzazione di questa particolare serata a cui ha dato il proprio contributo anche la compagnia teatrale Fabiano Valenti. Beh sì, la compagnia Valenti ci ha dato un grossissimo aiuto perché ci segue le biglietterie e poi anche il Comune di Caldarola per ovviamente la concessione del teatro. E quindi questa sarà una serata ovviamente che abbiamo pensata per l'ottantesimo della liberazione. Sono 80 anni che è stata liberata la provincia di Macerata e questo perché? Perché malgrado adesso tutti si appropriano chi più e chi meno di Enrico Mattei, Enrico Mattei è stato un partigiano, è stato un padre della patria perché ha combattuto proprio, è stato un partigiano operativo qui nelle zone di Sanseverino, Treia. Poi il 25 aprile allo sfilata per la liberazione, il 25 aprile del 44, lui ha sfilato insieme a Longo, a Parri, a Nenni, tutti i comandanti della resistenza italiana, lui era un responsabile dei partigiani cattolici. Poi ovviamente nel dopoguerra Conte Gasperi si è lanciato in questa sua grande capacità anche organizzativa, ambientale imprenditoriale, ha fatto un percorso importante anche per l'Italia, per l'economia italiana, la sua idea imprenditoriale è stata fortissima, è stata talmente forte che alla fine, purtroppo nell'ottobre del 62, con il suo aereo privato cadde a Bescapè, in questo piccolo paese in provincia di Pavia e è rimasto il mistero ovviamente, il mistero forte sulla sua morte perché questa è una delle storie, nei misteri del dopoguerra italiano, ovviamente se ne sono date tutte le spiegazioni, naturalmente un'idea generale è proprio un capitolo fine come è successo in altre, in tantissime altre occasioni del dopoguerra italiano non è stato dato, ne sono stati venuti fuori dai film, mi ricordo il caso Mattei, il famoso film di Francesco Rosi con un grandissimo, immenso Gian Maria Volontè e Giorgio Felicetti ha scritto questo testo, Giorgio Felicetti è un attore professionista, importante che ha girato tutti i teatri italiani e quindi ha scritto questo testo, è un testo fortissimo, quindi Mattei, Petrolio e Fango, racconta la storia di Mattei, la inquadra nel suo periodo storico, ovviamente Mattei ci sono ombre e luce e quindi è un testo fortissimo, invito tutti a venire al teatro di Caldarola perché sarà una serata di teatro impegnativo ma alla fine sarà molto bella. E per chi come te l'ha visto è uno spettacolo davvero emozionante che cattura sin da subito l'attenzione del pubblico. Sì, sì, assolutamente, come dicevo è un testo fortissimo, poi lui e la sua compagna di recitazione, la Bonafoni lo rendono in maniera veramente forte, importante, quindi vi invito tutti ovviamente a venire a Caldarola, la vietteria ancora è aperta, si possono prenotare, dopo vedrete il link con il numero della prenotazione, quindi vi aspetto, vi aspettiamo tutti. Una bella serata quindi, come ci ha raccontato Giorgio, da condividere tutti insieme, il numero per prenotare lo vedete nella locandina in sovraimpressione, potete ovviamente chiedere tutte le informazioni che volete chiamando appunto la compagnia Valenti, non prendete impegni quindi per sabato 1 giugno tutti al Teatro Comunale di Caldarola.